Buongiorno, Borges ha scritto che l'imminenza di una rivelazione che non si produce è il fatto principale e il centro di ogni manifestazione estetica. Questo è sicuramente vero per qualsiasi attività artistica, ma a me sembra che sia particolarmente significativo come indicazione per quanto riguarda la letteratura in generale e la poesia in particolare. La poesia vive un po' in questo limbo che richiede una costante collaborazione da parte del lettore per completare i suggerimenti di significato che vengono proposti dall'autore. La poesia è qualcosa che viene completata, una sorta di realizzazione a due fatta dall'autore e dal lettore insieme. Noi della Casa della Poesia di Como, di cui io sono vicepresidente, ci interroghiamo da molti anni sullo stato e lo status del linguaggio poetico comparato con altri mezzi di espressione umana, fra i quali la lingua poetica, che sicuramente non è molto spesso una lingua simile a quella che utilizziamo nella vita di tutti i giorni, ha sempre qualcosa di particolare e di diverso. Questa riflessione si è concretizzata nel corso del tempo in modo specifico e particolare nel Festival di Poesia Europa in Versi, un festival internazionale che noi realizziamo ogni anno a Como e che è giunto ormai alla decima edizione. È un festival che vuole accogliere, proprio per principio, voci di poeti provenienti da ogni parte del mondo, dall'Italia, dall'Europa, ma anche da altri paesi, anche molto lontani da noi, e proponendo le voci di poeti magari non particolarmente conosciuti in Italia. Quindi diventa una sorta di bilancio dello stato dell'arte della poesia che ogni anno cerchiamo di concretizzare a posteriori anche in un'antologia, un'antologia che raccoglie i testi che quell'anno sono stati proposti dai poeti durante il festival, ma le accoglie anche altri, proprio perché non vuole essere semplicemente una testimonianza di quanto è stato fatto, ma una sorta di punto fermo per identificare in qualche modo, senza avere pretese di esaustività totale, ma vuole identificare il mondo della poesia, come cambia e come si evolve da un anno con l'altro. L'ultima edizione di questa antologia è quella che vi faccio vedere, che si intitola La poesia e l'altro, che era il tema del 2019 del Festival Europa in Versi, ed è stata stampata come anche l'antologia delle edizioni precedenti dalla casa editrice I quaderni del Barto. È un'antologia che si trova assolutamente in commercio facilmente sugli store online o contattando direttamente la casa editrice ed è da noi volutamente stata strutturata in due modi diversi, raccogliendo, dicevamo, principalmente i poeti che hanno partecipato al festival e che costituiscono un po' le due anime della poesia attuale. Quindi abbiamo testi di poeti, diciamo così, tradizionali, poeti lirici, poeti della parola scritta, principalmente, e poeti performativi, poeti che supportano la parola scritta con un gesto teatrale, con lo speaking word, come si dice in gergo, cioè con una recitazione della poesia che è parte integrante della performance poetica. Perché abbiamo voluto raccogliere in un unico ambito e sotto un'unica antologia questi due aspetti della poesia contemporanea? Proprio perché ci sembra giusto rispecchiare quella che è la realtà della poesia oggi in tutte le sue sfaccettature. La poesia non è solo quella che ci viene consegnata dalla tradizione, non è solo la poesia che si legge a scuola, ma è anche una poesia che copre un ventaglio molto ampio di possibilità, che vanno appunto dal testo puramente scritto a una poesia forse un po' più adatta al gusto moderno e che quindi si fa più spettacolare, più narrativa, meno intimistica e più legata anche a un contatto e a un racconto diretto con il pubblico. Tant'è vero che nelle ultime due edizioni del Festival Europa in Versi abbiamo ospitato anche un poetry slam. Il poetry slam non è nient'altro che una gara fra poeti performativi, una gara molto 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 piacevole, molto ludica, che non ha niente di particolarmente combattivo e guerresco, ma che è un modo per coinvolgere il pubblico, farlo votare fino ad eleggere quella che viene considerata la poesia o il poeta più valido, che ha maggiormente convinto anche gli spettatori all'interno della rosa di poesie che vengono presentate. Quindi all'interno di questa antologia, che per noi è veramente il frutto e la sintesi di tutto il lavoro fatto, potete trovare veramente delle anime molto diverse, che rappresentano un po' l'uscibile della poesia contemporanea. Per entrare nello specifico e darvi anche un po' un esempio di questa realtà, volevo leggervi appunto due poesie di queste due categorie molto diverse fra loro. La prima è una poesia di Dimitro Cistiak, che è un poeta ucraino, ma che vive tra l'Ucraina e Parigi, ed è segretario generale dell'Accademia di Letteratura dell'Università di Parigi, ed è a sua volta anche professore universitario all'Università di Kiev. Ha scritto moltissimi libri e è particolarmente appassionato di poesia contemporanea. Addio ai frutteti. Ti vedo per l'ultima volta nello scoppio dei vetri della sera. Per non piangere, canti. Poi t'allontani. Il tuo sorriso sparisce. Chiudo gli occhi. T'ambraccio ancora. Il silenzio si spezza. Flutua sulle mie spalle. Soffiano nella mia pelle. Il giglio lancia un grido. L'adrenalina accende il mio sguardo. Affronta le maree. A un tratto il temporale rantola. I vetri si spezzano. La caverna si apre. Una pietra cade sul mio sguardo. Un serpente si lancia dalle mie braccia verso i vini oscuri. Non c'è più una casa. Una roccia. Il lampo illumina il mio ciliegio. Per un momento lo si crederebbe incandescente, ma lo vedo già bruciato troppo velocemente. Mi allontano dal fuoco con la rondine sulla mia spalla. Sento il sale sul mio viso. Mi butto nel mare per abbandonare questo frutteto bruciato. Ma non affogherò. Il riflesso del mio ciliegio bruciato saprà condurmi verso una nuova terra. Per il versante più performativo della poesia vi leggerò invece un testo di Simon Racket che è un poeta performativo belga e che è stato campione di poetry slam del belgio e vice campione europeo. Tre secondi. All'inizio del primo secondo, prima che il metallo urlasse che in un lungo glissando di rumore il mondo non sprofondasse nell'ombra, per prima cosa ho aperto gli occhi. Ho aperto gli occhi e il muso del camion si stava tuffando davanti a me, accecante ed enorme come una falesia della baia di Somme. Uno squalo bianco divoratore di uomini mi correva addosso proprio davanti alle mie mani sul volante. Il mio piede ha cominciato la sua corsa verso il fondo e, lentamente, ho visto i miei occhiali lasciare il dorso del mio naso e attraversare l'abitacolo senza gravità. Mi son detto, è così? È così che finiscono i miei centoventi chili di carne, i miei umori interiori tra cambio e radiatore, ma no, che fine della puttana merda. È valsa la pena smetterli di fumare, è valsa la pena di flippare come un matto all'idea dei quarant'anni, è valsa la pena l'errare, gli errori, le invidie, i progetti, è valsa la pena sperare nel radioso futuro, pulire il bagno senza mai finire e battersi a colpi di avvocati fuori budget contro quegli stronzi del gas. È valsa la pena lavorare come un mulo per finire ad addormentarsi al volante come un coglione e pensare che non ho neanche bevuto. Avrei voluto pacchi di sbronze, parti bomba e banchetti. Alle due e trenta sulle e quaranta è possibile che il futuro mi manchi. All'inizio del secondo secondo, mentre attorno a me l'alluminio gridava, il mondo mi esplose nei piedi, mentre il mio parabrezza sbocciava nel preciso istante in cui i miei occhiali ci si spiaccicavano. Mi sono detto, sembra quasi che siano stati i miei occhiali a rovinare il parabrezza, chi nervi. Mi sono detto, perché, puttana? Perché non un cazzo di cancro alle palle, alla prostata o al colon? Perché ho passato così tante notti a coltivare insalata sul telefono al posto di scrivere quel grande romanzo rivoluzionario che mi ero promesso di donare al mondo? Perché non ho mai fatto l'amore con due donne insieme? Perché non mi sono mai sbattuto per far uscire un cazzo di album? Qualcuno mi può spiegare che cazzo me ne faccio dei miei 12.600 punti Carrefour o come io abbia fatto i conti per avere così tanta paura di diventare vecchio? Io voglio diventare vecchio, puttana merda. Prendo tutto, prendo il Parkinson, i pannoloni e l'Alzheimer. Voglio sbavarmi addosso, succhiare caramelli immaginarie. Voglio diventare un peso per tutti. Che non si sappia più dove sbattermi e che i miei pronipoti si domandino quando tira le cuoie il vecchio? All'inizio del terzo secondo, mentre attorno a me il mondo si spegneva, mentre lo schienale strappato dal mio sedile mi proiettava dal volante, ho pensato al mare, mia bella, al tuo corpo, al cielo, al sapore della crema sui tuoi colpi di sole. Ho pensato quanto t'amo, figlio mio. Lì, nel tempo sospeso, nel metallo che macinava, ho avuto voglia delle sue braccia, dell'assoluto tenerezza delle sue mani e del suo respiro sul mio collo. Voglia di coprirlo d'amore e di saliva un'ultima volta, e mentre il motore attraversava il cruscotto inghiottendomi le gambe, ho avuto voglia di chiedergli scusa. Scusa se vado, piccolo mio. Scusa se vado per distrazione, senza averti dato le armi che servono per il combattimento che t'aspetta. Perché un giorno dovrai combattere, bello mio. Batterti per sempre fino all'ultimo respiro contro le armate dell'idiozia, della paura e delle nostre certezze. Combattere sempre un leone? Per restare libero e tenere in questo mondo di camion. Dubita sempre. Ama sempre. Grida al mondo questi dubbi e questi amori, perché al mondo non serve che questo. Avrei voluto pacchi di sbronze, parti bomba e banchetti. Alle 2.30 sulle 40 è possibile che il futuro mi manchi. Naturalmente erano traduzioni rispettivamente dal francese e dall'ucraino. Come vedete due tipologie di poesia molto diverse fra di loro, ma entrambe estremamente emotive. L'una e l'altra le potete trovare, ribadisco, sull'antologia La poesia e l'altro, che era il tema di quest'anno del Festival Europa in Versi 2019, edito da I Quederni del Bardo Editore. Grazie e a presto.